Quattordici. In partenza Cassandra Leggi è la più veloce e poi finisce con lo sbagliare e così Cashback B si sbriga, va su Capitol SM. Inbocco della prima piegata, Cashback B sfila a condurre su Capitol SM, terza posizione per Blanca Cash. Il favorito della gara assume subito l'iniziativa con lancio in quattordici e mezzo. Gestisce Gocciadoro dopo aver assunto l'iniziativa, un quarto in ventinove e mezzo. Tiene la posizione alla corda Capitol SM che precede Blanca Cash e Comando Lewis che troviamo quarto allo steccato. Poi si forma il treno esterno, ma fa fatica. Cleverfit LF è rimasta aria in faccia. Il ritmo si mantiene sollecito. Il ready cash della Pink Black completa a 800 in 59 e mezzo. Seconda pariglia per Boromir Baba, terza per Crash Bandicoot, quarta per Cameron Diaz Trebb. Mille metri iniziali addirittura in 1'13 e mezzo. Andatura più che sostenuta per il ready cash di Siddi e Gocciadoro, che percorre la curva in 15 secchi. Cashback B, Capitol SM. Adesso c'è estrema selezione. Tutti fanno fatica a tenere il passo del Battistrada, che acquisisce vantaggio. A 600 dalla conclusione, con una frazione in 15. Cashback Capital, lo scatto di Cameron Diaz Trebb. Chi ne supera diversi, raggiunge Capital in seconda posizione e prova ad agganciare il leader, che però continua di buona lena, miglio in 1'58 e 8. Ingresso in retta d'arrivo per Cashback B. Solitario all'avanguardia, la rottura di Cameron Diaz Trebb. Presentazione extra lusso per questo soggetto dal potenziale notevole. Comando Lewis è secondo, mentre un ottimo Capitol SM conquista la terza moneta, dopo aver tenuto il ritmo del Battistrada per buona parte della gara. media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.13 e mezzo sul doppio chilometro. Doppia Alessandro Gocciadoro, doppia la Pink e Black. Il primo successo nel pomeriggio per Luigi Isidi, che però ha il merito di aver presentato un cavallo in gran condizione. Tale Cashback B. Grazie. 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 Grazie a tutti.